Salve ragazzi, scusate se ho fatto il video in ritardo ma qua veramente c'è poco da commentare, di nuovo rasato, c'è poco da commentare ragazzi, 4, 4 a 0 per il Milan, incredibile, una partita stratosferica dei ragazzi. Allora partendo dal fatto che questa partita non ci può servire, c'è il Napoli ormai il campione in Italia quindi, scusate un attimo, premetto che insomma non c'è utile per il campionato, non c'è utile per la Champions League, questa è una partita da vincere come abbiamo fatto per andare in Champions League l'anno prossimo, come ha detto Pioli il Milan ha bisogno della Champions l'anno prossimo, dai Milan coraggio. Ora ragazzi l'importante è vincere contro l'Empoli la prossima partita e per la Champions League il Milan se la può giocare contro i napoletani, se la può veramente giocare, però attenzione, dobbiamo assolutamente fare meglio per fare il cammino in Champions o magari ripetere questa partita un po' molte volte. Bene ragazzi, passando alle pagelle, allora Meignan, 7 e mezzo, stasera eccezionale Magic Mike, 7 e mezzo non tiraleva nessuno. Kier, eh, Kvara Scheli è un brutto cliente, quindi voto 6 normale. Tomori, 6 e mezzo, sei stato molto bravo anche tu, anche se qualche sbavatura c'è. Comunque, Teo Hernandez, voto 7, sei stato molto bravo anche tu, grandissimo Teo, qualche sbavatura in difesa ma te la sei cavata molto meno di Kier e Tomori, è stato di sbavature, è stato molto più lucido, 7 quindi. Calabria, 7 e mezzo, hai fermato Kvara Schelia, e se qualcuno ha la decenza di ricordarsi Milan-Napoli dell'andata, non è neanche la prima volta che Davide ferma Kvara Schelia, che è un giocatore fortissimo, sia chiaro, ma Davide ha dimostrato di non essere inferiori a Kvara Schelia. Passiamo al successivo, Tonali, migliore di... vabbè, non vogliamo innescare emoguerre, Tonali, voto 7, no, 8, 8 Tonali e 8 Benaser, tutti e due eccezionali stasera. Come cazzo si fa? Si sono stati grandissimi i ragazzi stasera, e speriamo che Pobeck e Brunks si rivelino altrettanto bravi contro l'Empoli, io li farei giocare sinceramente. Allora, parliamo, allora, poi scusatemi dicevo, 8, tutti e due, bene, sei rettonali che coppia. Krunic, 6 e mezzo, non una partita eccezionale, ma un gioco sporco ben fatto. Leao, voto, a volte questi gol eccezionali, altre volte escire al campo, eeeh, Rafael, una media, io direi un 7 e mezzo. Stranamente dici, ma come, non è Leao il miglior giocatore della partita? Beh, no, dai, 8 glielo posso dare, 8, va bene, 8, Leao, così, però, Rafael, fai ancora, ancora meglio e rinnova il contratto, o quantomeno fatti vendere quest'anno. Non voglio perderti a 0, chiaro? Giroud, voto, eeeh, allora, Oliviero Giroud, io direi, voto, eeeh, 7, perché per la partita, per la grande partita di copertura che hai fatto, caro Oliviero, sei stato eccezionale, Oliviero, sei stato eccezionale, però purtroppo il gol non l'hai fatto. Io ero molto, io e mio amico Gianfranco da casa, eravamo un po' tristi perché volevamo che tu facessi il gol, che te lo meritavi per quello che hai fatto stasera, veramente, altro che Orighi, tu sì che hai fatto bene, però non puoi fare sempre tutto tu. Divock deve imparare a giocare da giocatore, cazzo, da goleador, deve o meglio fare il suo dovere di punta, che cazzo, Divock? Comunque, eh, Orighi, che devo dirvi? Eh, su Orighi voto, 5, male, 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 Divock. Ma che vogliamo fare con te? Andiamo avanti, su, su, allora, allora, Brahim Diaz per il gol e per tutta la prestazione voto 7,5 pure tu, grandissimo Brahim Diaz. Poi, allora, che ci sta? Allora, De Ketela reentra, voto 6. Cavoli, Charles, è un peccato che non c'è entrato prima. Lo dico e lo ripeto, Pioli. Perché Aster Branks, sì? Cioè, non ha giocato Aster. Dicevo, perché De Ketelaar sì e Aster Branks no? Ma, per curiosità, ma Branks ti ha chiamato, eh, ti ha chiamato la moglie, per caso? Dici, deve convincermi in conferenza, io faccio giocare chi mi convince. Eh, il caro Asterino, non mi sembra che non ti abbia convinto. Ma vabbè, lasciamo stare. Rebic, senza voto, Righi, 5, io l'ho già dato. Che altro c'hai da valutare? Bacayoko, 4, il peggiore della partita. Per poco Araspadori non andava a fare il gol del 4-1. Vabbè, comunque, Pioli, io direi voto 8. Stasera l'hai preparata proprio bene. Adesso, come hai detto, pensiamo alle altre. Testa all'Empoli, dai! GIALI und stasera lorÉ. GENDànCAD vac тебе vuodo le ha chiamato a fare il 5-1. Le,셔야 ci vuodo le ha chiamato a fare il